Grazie intanto per avermi invitato qui in questa meravigliosa location che è stupenda. Io sono direttore del primario dell'angiologia dell'azienda ospedaliera Università di Padova e sono coordinatore del Dipartimento di Diagnostica Clinica. È stato un periodo tremendo, Padova ha avuto moltissimi contagi, però siamo riusciti a contenerli, siamo stati gli unici ad avere una letalità e una mortalità la più bassa non solo in Veneto, che è già una regione virtuosa da questo punto di vista, ma anche rispetto all'Italia e rispetto anche a tutto il mondo. E questo grazie a una riorganizzazione immediata che c'è stata da parte proprio della direzione, con spostamenti di reparte una parte all'altra, con diversificazione anche dei percorsi Covid e no Covid, grazie anche ad aver intuito per primo, ricordo il professore Andrea Crisanti della microbiologia, di aver intuito per primo che gli asintomatici hanno la stessa carica virale dei sintomatici e quindi era importante andare a diagnosticare e quindi isolare questa popolazione. Ricordo che ormai il paesino di Vo in provincia di Padova è diventato famoso in tutto il mondo proprio perché abbiamo sottoposto a tamponi per ben due volte tutta la popolazione di 3500 persone. E quindi è stata una sperimentazione unica nel mondo e che ha dato anche speranza di come poter affrontare in attesa di terapie, di vaccini, come poter affrontare nel migliore dei modi questa grande nefasta tragedia che ha sconvolto, oltre che coinvolto, tanti. E non dimentichiamoci che non c'è solo il discorso del coronavirus ma anche purtroppo c'è l'emergenza economica che insomma ci aspetta anche in questa seconda e terza fase. Quindi il video che abbiamo realizzato a Padova in maniera assolutamente volontaria ha voluto proprio dire questo, ci ha voluto costruire un documento, una testimonianza ma anche un ringraziamento per tutti gli operatori sanitari non solo di Padova ma insomma di tutto il mondo che affrontano questa patologia che è una patologia multiorgano che non colpisce solo i polmoni e nello stesso tempo però dare un messaggio di speranza, un messaggio di speranza da Padova a tutto il mondo che insomma anche con l'arte come qui si dimostra in questa meravigliosa piazza l'arte vuol dire cambiamento, vuol dire rivoluzione, vuol dire trasformazione e nello stesso tempo vuol dire rinascita. Ecco ce la faremo. Io ringrazio ancora una volta Robby Facchinetti dei Poo che mi ha dato la sua base musicale ha voluto lasciare la sua voce anche dentro ed è cantata questa da personale sanitario da personaggi anche di Padova e nello stesso tempo però come si vedrà nel filmato si vedranno questi occhi, questi occhi che insomma si vedono a di fuori delle mascherine e si vede anche come l'impegno di queste persone che ricordo anche i sanitari insomma abbiamo lasciato anche i nostri morti sul campo a fianco dei nostri pazienti sia come ammalati purtroppo anche. Ricordo anche che a Padova sono arrivate anche le bare di Bergamo che è un'altra città che è quella più colpita in assoluta che purtroppo la cosa che più ha colpito veramente è che non si poteva dare neanche un estremo saluto a questi propri congiunti, a questi propri familiari. Ecco quindi un messaggio di speranza ce la faremo rinasceremo ed è questo lo spirito, questo inno che abbiamo voluto dare con questo video. Allora io ringrazio di cuore il professore Avruscio per aver accettato e quindi il nostro premio e questo premio è un omaggio ai medici veneti, ai paramedici, un omaggio e un grazie a lei professore per tutto quello che avete fatto. Questa sera sarà mandato in onda il video molto bello che io già ho apprezzato e quindi la Puglia ricorda con affetto tutti i vostri sforzi e quindi proprio da questa scenografia meravigliosa della terra messapica, del castello e della piazza di Mesagne va il nostro ringraziamento e l'augurio di rivederci quanto prima sempre per festeggiare e diciamo mai più per ricordare. Grazie professore.